Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Qualche tempo fa con l'aiuto di mio padre ho smontato dei vecchi bancali e voglio farvi vedere come ho fatto a riutilizzare le varie tavole che ho recuperato. Sto ancora lavorando a questo manufatto, sto costruendo uno sgabello e in questo progetto sto mettendo a dura prova la mia piccola sega a nastro. Ho deciso di pubblicarne già una prima parte perché è un lavoro un po' lungo e preferisco fare il secondo video dedicato alle varie fasi della finitura. Io vi ringrazio per l'attenzione, buon fai da te a tutti. Ciao! Travetti che ho recuperato dalle pedane sono questi qui. Sono travetti da 3 cm per 5 lunghi 110. Vado a tagliare i vari pezzi di misura perché devo fare un telaio della dimensione di 41 cm per lato. Questa è la prima delle due cornici e misura 41 x 41. vado a montare la struttura in questo modo così il listello appoggia metà per parte sul sugli altri due e rimane bello robusto. Vado a montare la struttura in questo modo. va a montare la struttura in questo modo. Lo so. Sì. Sì. Per unire i due punti, per due telai, adesso vado a mettere un altro pezzettino di travetto qui e andrò a fissarlo con un blocchettino di legno, un po' di colla vinilica e due viti. Il telaio interno l'ho finito. Adesso andrò a dare una veloce carteggiata e poi darò una mano di impregnante, giusto per proteggerlo un po', però questa parte non la vedrete nel video. Dopo andrò a tagliare al banco sega i vari pannelli di USB per ricoprire l'intera struttura. L'impregnante al telaio l'ho dato e ho già preparato tutti i vari pannellini per ricoprire l'intera struttura. Posso procedere con il lavoro. Inizierò con il fissare il fondo. Visto che la procedura è uguale per ogni lato della struttura, ve ne farò vedere solo una nel video. Allora metterò un po' di colla vinilica sulla parte del telaio, poi appoggerò sopra il pannellino, lo fermerò con dei chiodini e poi metterò tre o quattro viti per tenerlo ben fermo. Con il banco sega sono andato a tagliare l'intera struttura. Posso incollare varie tavolette e le userò per ricoprire tutta la superficie della struttura. Incomincio ad incollare i vari pezzi. Inizierò dal bordo. Per trovare la giusta posizione dei pezzi mi aiuto con due tavolette e vado ad incollare in questo modo. Metterò i pezzi in maniera sfalsata nel senso che uno lo farò sporgere e l'altro sarà a filo. della superficie, così quando andrò a montare il pezzo su questo lato lo andrò a fare uscire e andrà ad incastrarsi. Il primo perimetro è finito. Volevo solo farvi vedere come rimane. Sono messi sfalsati e una volta montato il pezzo sull'altro lato l'effetto è molto bello. Per lo meno a me piace molto. Per tagliare i pezzettini che mi servono per completare il piano uso la mia piccola seganastro. Questa è la prima parte, è la parte della seduta che è terminata. Ho fatto i vari tagli con la seganastro per fare tutti gli incastri e il video termina qui. Nella seconda parte vedrete tutte le fasi della finitura. Grazie. 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 Grazie.